cancella l'odio è il titolo del video vincitore di toscana in spot 2022 il bando promosso dal comitato regionale per le comunicazioni è giunto quest'anno alla nona edizione tema individuato dal corecom il contrasto all'ate speech inteso come ricorso a espressione di discriminazione nei confronti di categorie o gruppi di persone in ragione del loro particolare status economico sociale della loro appartenenza etnica del loro orientamento sessuale o del loro credo religioso quest'anno abbiamo voluto impegnarci sulle parole d'odio perché consideriamo che quello che accade attraverso gli strumenti di comunicazione spesso grandi opportunità da una parte ma anche molte insidie e allora i giovani toscani hanno presentato alcuni spot molto belli è stato difficilissimo selezionare i migliori lo abbiamo fatto con fatica facendo emergere tre bellissime esperienze che potrete vedere sui canali della regione toscana del consiglio regionale naturalmente del corecom della toscana i tre migliori spot audiovisivi sono aggiudicati il monte premi totale di 10.000 euro come detto a vincere cancella l'odio di Mattia Pagni le parole d'odio sono una componente che fa parte a questo punto della vita di tutti e tutti noi le parole sono come un filtro che si va a spiaccicare sopra i vetri che ci permettono di vedere quello che è fuori quello che è il mondo e non ci permettono più di vedere quello che è di bello che c'è di fuori del nostro mondo che ci ritagliamo se noi avessimo la capacità avessimo il coraggio di cancellare di pulire queste macchie che vanno a formarsi sulla nostra maniera di vedere il mondo riusciremo anche a vedere la bellezza che c'è dietro a tutto questo quindi ogni parola d'odio che diciamo ogni commento ogni giudizio va a limitarci va a imprigionarci dentro l'odio dentro la parte brutta del mondo secondo arrivato pastello rotto di Roberto Russo era importante un messaggio che sia semplice la semplicità ed è difficile oggi perché nessuno vuole sentire più le lezioni anche negli spot digitari nel cinema si cerca sempre l'immediatezza e alla fine la voce delle bambine poteva essere la soluzione a raccontare a sensibilizzare sul tema dell'odio su internet dell'odio verso gli altri di non avere odio ma verso le persone la voce delle bimbe e poi soprattutto il parallelismo tra una bambina che parla quindi spesso le persone che perdono tempo a giudicare mentre l'altra fa, ascolta e non si cura di queste cose perché sono futili, pensa solo a fare il disegno quindi nelle azioni delle bambine in quel piccolo dialogo si poteva riassumere tutto il tema di quest'anno insomma del concorso NOET a supportare l'iniziativa del Comitato Regionale per le Comunicazioni il Consiglio regionale presente alla premiazione con il Presidente Antonio Mazzeo è bello sapere che ognuno di noi può e deve fare la sua parte perché quello che accada accada sempre meno ragazzi voglio mandare un messaggio, non siate mai indifferenti di fronte a tutto questo e come il video che si aggiudica il primo premio termina con un colpo di spugna contro le parole d'odio credo che noi dobbiamo fare la nostra parte, essere a fianco a tutti coloro i quali si impegnano in questa direzione allora il compito delle istituzioni è quello di non voltarsi mai dall'altra parte di sostenere ogni iniziativa, ogni progettualità andando nelle scuole per segnalare quanto oggi sia importante questa battaglia contro le parole d'odio Quale azione di contrasto per le hate speech soprattutto sui social dove è difficile il controllo? Con la Polizia Postale, con il Consiglio regionale scolastico, con l'Istituto degli Innocenti attraverso un progetto che sarà diffuso in tutte le scuole primarie della nostra regione che si chiama Patentino Digitale Noi abbiamo cercato con i corsi di formazione sul patentino digitale di dare ai giovani studenti tutte quelle conoscenze che consentiranno di utilizzare in modo particolare gli smartphone con grande attenzione perché come dicevamo sono grandissime opportunità ma dentro hanno anche tante insidie Seduta straordinaria del Consiglio regionale della Toscana si parla di bollo auto per adeguare la normativa regionale a quella nuova a livello nazionale è il Presidente della Giunta Eugenio Gianni a spiegare le motivazioni dell'urgenza Si è fatta molta agitazione su questo ma in realtà era una motivazione molto semplice non c'era un'urgenza per accorciare i tempi del dibattito ma solo per quello che ci richiede la legge Bollo auto per tutti i cittadini rimarrà per l'anno prossimo esattamente quello che è ora La modifica va a incrementare invece il bollo auto degli utilizzatori dei mezzi a noleggio Quindi una nicchia, una categoria molto precisa perché è cambiata la legge a livello nazionale invece che le imprese proprietarie dei mezzi che vengono messi a noleggio la pagheranno gli utilizzatori e conseguentemente se le imprese che pagavano bolli per migliaia di persone esisteva un'agevolazione che poi le teneva in Toscana altrimenti le agevolazioni magari le trovavano in altre regioni e quindi con un vantaggio da parte della regione nel momento in cui cambia la legge nazionale a pagare il bollo sono gli utilizzatori allora è giusto che paghino quanto pagano gli altri proprietari ovvero tutti i cittadini che hanno la loro auto quindi è stata semplicemente un'operazione di perequazione fiscale La legge passa con 22 voti a favore solo il PD votano no le opposizioni e anche Italia Viva Italia Viva ha votato contro questa legge perché riteniamo inopportuna un aumento delle tasse che non venga poi correlato a un'attribuzione di queste risorse che sono 9 milioni di euro a favore poi delle imprese, dei commercianti, degli artigiani, di colori che più di altri stanno soffrendo e quindi noi avevamo detto fin della settimana scorso che eravamo disponibili ad aumentare questa tassazione solamente a una condizione, quella condizione che queste risorse siccome verranno pagate essenzialmente da libri professionisti, da artigiani, da imprese che molte volte hanno auto a noleggio potessero poi essere restituite nei confronti delle imprese, dei commercianti, degli artigiani che più di altri stanno soffrendo rispetto al caro bollette, al caro energia riteniamo che questo sia una cosa ingiusta non servono queste risorse per pagare il buco della sanità se questo c'è deve essere spiegato se esiste o se non esiste e quindi su questo chiediamo chiarezza ovviamente alla maggioranza di governo in regione toscana e non siamo stati disponibili a cedere sui nostri valori, sui nostri principi insomma si può perdere una battaglia in aula ma non si può perdere la dignità quindi per noi questa imposizione fiscale non esiste perché altrimenti queste risorse andavano destinate qualora si voleva aumentare le tasse soltanto a favore delle imprese Passa un ordine del giorno del Partito Democratico che chiede di utilizzare le risorse aggiuntive che arriveranno per la sanità Siccome la Giunta ci ha proposto un provvedimento che toglie uno sgravio che fino ad oggi esisteva per quanto riguarda il pagamento del bollo per i noleggi a lunga scadenza questo avviene in virtù della modifica della legge nazionale che fa pagare il bollo non più ai possessori delle auto ma agli utilizzatori delle auto noi abbiamo pensato di allegare un ordine del giorno al provvedimento che ci ha trovato favorevoli per quanto riguarda l'eventuale utilizzo nell'ambito del prossimo bilancio di queste risorse che verranno recuperate per noi è importante tenere ben presente, avere priorità per quanto riguarda l'agenda sanitaria e per quanto riguarda l'agenda sociale della Regione le famiglie stanno soffrendo, le persone sono in difficoltà la sanità toscana è la più pubblica che abbiamo in questo Paese siccome presumiamo che il Governo non allocherà maggiori risorse tra l'altro per quanto riguarda la sanità almeno questo dalle prime dichiarazioni che sono state fatte noi pensiamo che mettere risorse per quanto riguarda il rafforzamento della sanità territoriale dei servizi rivolte alle persone più fragili per quanto riguarda il rafforzamento dell'agenda sociale sia dare riscontro a quelle che sono le maggiori esigenze e le maggiori emergenze che le fasce più deboli della popolazione stanno attraversando come detto il no arriva dalle opposizioni, non tiene la motivazione dell'urgenza attacca Fratelli d'Italia per bocca del capogruppo Torselli il Presidente Gianni il 2 di novembre si rende conto di non aver fatto l'adeguamento delle tariffe del bollo auto e convoca un consiglio di urgenza per farlo il 2 di novembre primo punto secondo punto, cosa si va a fare? si va a stabilire che in Toscana dal primo di gennaio del 2023 chi ha un'auto a un noleggio a lungo termine dovrà pagarci sopra il bollo auto cosa che fino ad oggi questo non veniva fatto chi è che ha auto con il noleggio a lungo termine? professionisti, imprenditori, partite IVA categorie che mi pare che negli ultimi anni di vessazione ne abbiano già avute abbastanza queste figure dal primo gennaio del 2023 dovranno pagare anche il bollo auto terzo punto la Regione Toscana grazie a questa modifica normativa andrà ad incassare nel 2023 9 milioni di euro in più rispetto al passato che destinerà al comparto della sanità tutto bene allora noi ci chiediamo cos'è successo nel 2022 perché cos'è successo alla sanità toscana nel 2022? e perché questa domanda? perché la legge che permetteva alla Regione Toscana di incassare questi 9 milioni di extragedito è la legge di stabilità del governo del 2019 in vigore dal primo gennaio 2020 cioè la Regione Toscana ha scientemente scelto di non incassare questi 9 milioni di euro nel 2020, nel 2021 e nel 2022 andando ad incassare nel 2023 quindi o nel 2022 è successo un cataclisma nella Regione Toscana nella sanità toscana per cui servono 9 milioni di euro in più e il Presidente Gianni ci deve spiegare cos'è successo oppure il Presidente Gianni ci deve spiegare perché ha rinunciato ad incassare 27 milioni di euro tra il 2020 e il 2022 sa di manovra per recuperare soltanto risorse dice il Movimento 5 Stelle la Giunta regionale evidentemente ha bisogno di andare a cercare delle risorse finanziarie perché è l'unico modo con cui si giustifica la fretta e il modo con cui in questo momento sono andati a mettere le mani nelle tasche di partite IVA, piccolissime imprese fatte anche da una sola persona che sono quelli del noleggio auto a lungo termine ad esempio per ricavare 9 milioni di euro che mi viene da pensare sono quasi la stessa cifra che un anno fa era stata data a Toscana Aeroporti come ristoro sarò poi sapere che erano stati divisi gli utili da quel punto di vista un'altra cosa molto curiosa è che vengono chiesti questi 9 milioni in più dalle casse che vengono comunque sono mani in tasca che vengono messe a una categoria che lavora e che produce ma non si sa come vengono finalizzati e soprattutto viene da pensare se la Regione non abbia trovato altro su cui risparmiare o su cui riuscire a incassare maggiormente e a questo punto viene da fare due riflessioni i rumors riguardo il buco di bilancio che ci aspetterebbe a fine anno per la sanità continua a essere sempre più forte e consistente e il dubbio è che siano diciamo un bicchiere di acqua in mare per cercare di andare a colmare questo buco l'altro pensiero che ci viene da fare riguardo a questa iniziativa a questa presa di posizione diciamo della Regione Toscana riguarda il fatto che le cifre che vengono cercate non sono state vincolate in nessun modo quindi la Regione oggi ci dice che ha trovato dove esigere 9 milioni di euro in più dai toscani da una categoria di toscani ma non ci dice come le vuole spendere e il sospetto è che in realtà ci sia dietro un problema più grosso di quello che in questo momento appare No, anche dal gruppo misto soddisfatta però la consigliera Tozzi per l'approvazione del suo ordine del giorno A noi sembra che oggi siamo in una situazione in cui il sostegno alle attività produttive e quindi di conseguenza l'occupazione debba essere una priorità abbiamo come dire scansato che queste risorse fossero destinate poi integralmente invece alla sanità che già copre l'80% del bilancio regionale e noi non possiamo permetterci di mettere sulla spesa corrente altre risorse senza programmazione o almeno non solo senza programmazione ma anche senza vederci chiaro su quello che è il futuro del sistema sanitario oggi invece siamo riusciti a dare grazie a questo ordine del giorno anche un indirizzo specifico a sostegno del sistema produttivo io credo che sia davvero un segnale importante aggiungo che anche Italia Viva componente della maggioranza ha ritenuto di seguire questa nostra intenzione di dare una destinazione precisa a questo tesoretto di 9 milioni evidentemente registrando una maggioranza che su alcuni temi come abbiamo già visto ha delle spaccature quindi su questo c'è un tema politico che sicuramente si porrà con sempre maggiore insistenza anche in futuro Grazie a tutti